Dopo il sisma scatta il check-up sulle strutture scolastiche. A Dariano sono in dirittura d'arrivo 50.000 euro, 37.000 statali e 12.000 delle casse dell'amministrazione per la verifica dei solai degli edifici degli istituti. In prima battuta sono state monitorate scuole materne, elementari e medie. Le località interessate dall'intervento dei tecnici sono state Piano della Croce, Calvario, Camporeale, Piano di Zona, Tesoro, Pastini, Cardito e Palazzisi. L'operazione è stata finanziata nell'ambito del programma governativo Buona Scuola. Un argomento quello della sicurezza scolastica spinoso e controverso, che si ripresenta solo quando avvengono o si sfiorano tragedie come il crollo della scuola capranica di Amatrice. Stamane al comune di Benevento un incontro tra il sindaco Mastella e un pool di tecnici per verificare la salubrità strutturale degli istituti sanniti. Se non dovessero esserci delle rassicurazioni sulla staticità della struttura, ha dichiarato il sindaco Mastella alla 7, le scuole il 15 settembre non apriranno. Si sonderanno delle soluzioni alternative. E bufera intanto anche in provincia di Salerno, dove l'opposizione cittadina accusa il comune di essere sprovvisto di un piano di rischio. Un piano cioè che si è in grado di informare sulla sicurezza di edifici, quali ospedali, carceri, scuole, che in caso di emergenza possano diventare luoghi di assembramento per eventuali sfollati. Il problema era già emerso l'anno scorso nel corso di una serie di commissioni comunali a cui era stato convocato l'allora delegato alla protezione civile, ma è tornato prepotentemente alla ribalta a seguito di un'interrogazione al sindaco arrivata dai consiglieri di minoranza. La notizia ha sollevato un polverone politico anche alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente della regione Vincenzo De Luca, proprio contro quei sindaci che non avevano ancora provveduto a redigere un piano di protezione civile, a fronte delle nuove linee guida dell'ente da lui diretto. Ma il Comune di Salerno smentisce replica con una nota ufficiale. Il piano di protezione civile c'è. Da Palazzo di Città fanno sapere che grazie ad un finanziamento degli anni 2007-2013 di 100.000 euro il piano sarà nei prossimi mesi completamente informatizzato e pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Salerno.